torta al forno ciao oggi presento la ricetta della torta al forno utilizzerò uova intere farina fecola zucchero semolato yogurt neutro lievito in polvere e olio di semi come prima cosa setaccio tutto assieme alla farina la fecola e lievito in polvere poi in una ciotola grande unisco yogurt e zucchero con l'aiuto della frusta poi poco alla volta aggiungo le uova le farine setacciate e un po' e sempre poco alla volta l'olio di semi. Perfetto, l'impasto è pronto, poi prendo una tortiera con l'aiuto del pennello e del burro fuso la ungo e la infarino, tolgo quella in eccesso ed è pronta. Posiziono sul fondo della tortiera un foglio di carta da forno, poi verso tutto il composto preparato in precedenza ed è pronta per essere cotta. La cuocerò in forno statico a 170 gradi per 25-30 minuti circa. La torta è cotta, quindi la faccio raffreddare. Una volta fredda, la sformo in questo modo e infine la copro con dello zucchero a velo. Grazie e alla prossima ricetta, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!